Ehi! Volevo rientrare in sordina. Bentornato, Ed. Potrebbe essere molto pericoloso. Devi parlarmi di questa spacciatrice. Milena è un'ex paziente. Allora perché è uscita da casa tua alle 5 di stamattina? Comunque appaiano le cose. La verità è sempre più complicata. In prima visione Italia 1 1, 2, 3 La settima stagione di Chicago Mad. Giovedì sera dopo Chicago Fire.